per preparare i connetti veloci di pasta sfoglia alla nutella utilizzerò due rotole di pasta sfoglia già pronta del formato rotondo stende il primo rotolo sul piano da lavoro spalmo sopra in modo uniforme la nutella a sentimento più o meno in base ai propri gusti personali copro con l'altro disco di pasta sfoglia faccio combaciare per bene le due sfoglie premo e faccio aderire per bene con l'aiuto della rotella per pizza ricavo 12 spicchi prendo uno spicchio alla volta partendo dal lato più colta rotolo su se stesso senza stringere troppo ottengo un cornetto man mano sistema sulla teglia da forno coperta con carta forno procede in questo modo fino al termine di tutti gli spicchi trasferisco la teglia in forno già caldo e statico e lascio cuocere a 200 gradi per circa 15 20 minuti o fino a quando i cornetti risulteranno belli dorati e gonfi miei carissimi amici avete voglia di coccularvi con una colazione a merenda veloce ma golosa allora vi suggerisco i connetti di pasta sfoglia alla nutella sono ghiotti fragranti e deliziosi si preparano facilmente in pochissimi minuti con solo due ingredienti otterrete un dolce sfizioso e golosissimo nessuno potrà resistere prima di salutarvi voglio ricordarvi iscrivervi al mio canale di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle mie ultime ricette ciao a tutti i miei carissimi amici e alla prossima ciao